Diamo il benvenuto al primo ospite della puntata, Piero Mancardi, CEO Touring Superleggera. E' con piacere che questa sera abbiamo in studio il dottor Piero Mancardi, amministratore delegato di Touring Superleggera. Ben arrivato. Grazie. Dicevo, siamo contenti perché andiamo ad affrontare un settore nuovo all'interno della passione di Safe Drive, una carrozzeria che è una grande tradizione ma adesso si sta rilanciando. Ci racconti qualcosa della sua azienda? Per raccontare la mia azienda ci vorrebbe un pezzo importante della storia dell'automobile italiana e europea e mondiale perché la Touring Superleggera è uno dei quattro o cinque grandissimi nomi della carrozzeria italiana. Nata nel 1926 e ha disegnato una serie di macchine che per grazia, eleganza, valore stilistico e anche valore tecnico hanno dato una vera svolta, ognuna di esse ha dato una vera svolta alla storia dell'automobile. Ricordiamo sempre ai nostri telespettatori qualche vettura che ha fatto la storia della sua azienda negli anni scorsi? Ce ne sono tantissime ma una che forse tutti ricordano è la famosa Aston Martin di B5 che James Bond guida nel film Goldfinger. Aston Martin, poi Ferrari. Ferrari è stata un grande cliente per la Touring che ha disegnato tutte le Ferrari dalla prima fino alla metà degli anni 50. Ce ne sono alcune che sono famosissime come la famosa 166 Barchette, tantissime Alfa Romeo, Maserati. La primissima Lamborghini che fu mai prodotta era la 350-400 che è stata disegnata da Touring perché Ferruccio Lamborghini aveva disegnato una meccanica eccezionale, un motore fantastico, ma si era dimenticato che c'era un aspetto stilistico da Savla Guardà. Abbiamo parlato del passato di Touring superleggera, ma il presente l'abbiamo potuto osservare da vicino al recente Salone di Ginevra con una nuova proposta legata ad Alfa Romeo. La disco volante è una macchina originale, quella del 1952, disegnata per correre e ha influenzato per almeno 15 anni l'evoluzione del design dappertutto nel mondo. Una forma con le ali avvolgenti, con le ruote coperte, con un abitacolo molto arretrato, una grandissima attenzione all'aerodinamica che è stata poi copiata da tantissimi, tra cui per esempio la famosa Jaguar Re. Noi oggi la rienterpretiamo, noi abbiamo un posizionamento nel design che è molto preciso e poi c'è una cosa unica, che noi le macchine che disegniamo siamo in grado di realizzarle a ciclo completo, a 360 gradi, in casa, nei nostri stabilimenti. Ci racconta brevemente come nasce da un pezzo di carta al momento in cui girate la chiave, schiacciate un bottone e l'ottocilindri si muove. No, innanzitutto ci vuole circa un anno, un anno e mezzo, che è tanto ma è anche poco se si pensa ai tempi di sviluppo di un'intera automobile. Noi non lavoriamo sulla meccanica, questo va detto, noi facciamo delle carrozzerie, noi siamo dei sarti, facciamo quindi dei progetti su misura in cui il cliente ha la sua parola da dire. Quindi ci sediamo al tavolo con il cliente, cerchiamo di capire quali sono le sue inclinazioni, i suoi desideri, qual è il suo sogno, ma anche qual è la sua provenienza automobilistica e a quel momento il centro design si mette a disegnare, a tracciare delle linee sulla carta. Poi però, a differenza del passato in cui la fase di realizzazione era essenzialmente artigianale, oggi bisogna rispettare tutti gli standard di qualità, di sicurezza, di ecologia delle automobili del 2012. Senta, in rapida conclusione due domande veloci. La prima volevo chiederle se si può svelare il progetto nel quale state lavorando adesso, quale sarà la prossima vettura che uscirà dalla carrozzeria Touring Superleggera e poi magari diamo un indirizzo internet ai nostri telespettatori per andare a vedere qualcosa di più dell'azienda. Il progetto che adesso stiamo realizzando è quello che noi abbiamo portato appunto a Ginevra, al disco volante 2012, che è una vettura, un coupé a due posti, basato su una meccanica di Alfa Romeo 8C competizione e che pensiamo di portare su strada verso la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo. Poi abbiamo negli scaffali un sacco di altre realizzazioni che man mano mettiamo in cantiere, ma su queste ovviamente c'è il più grande riservo. I clienti sono ancora gelosi? Beh, i clienti sono gelosi, qualche volta sono gelosi fino all'ultimissimo momento, ma noi dai clienti abbiamo degli stimoli che sono parte realmente integrante del nostro lavoro. Ecco, le chiedevo un indirizzo internet dell'azienda? Tre volte W, touring superleggera in una parola sola, punto EU, perché noi siamo un'azienda europea e quindi abbiamo il dominio EU. Io la ringrazio ancora, spero di vederla quanto prima, magari appunto al fianco di questi gioielli e magari fare anche un giro assieme a lei. Ci vediamo senz'altro su una delle nostre macchine. Grazie.